Signore e signori buongiorno, signore e signore buongiorno, oggi è un altro giorno, buon caffè! Oggi è mercoledì, il caffettino di mattino, com'è com'è? E' una bella metta di torta, è una bella metta di torta che non deve mai mancare, la famosa torta, quella fatta con le mie manine. Adesso noi dobbiamo fare la prova dell'assaggio, com'è com'è, non la rubiamo, ci vuole la cucchietta qua, ma va bene senza cucchietta qua. Ragazzi oggi ne abbiamo 17. Una buona giornata a tutti voi, pure la televisione non riesce, vieni? Tanta e bella cosa è trotta! Buon caffè! Com'è com'è? Si scioglie in bocca, squaglia in bocca! Buongiorno ragazzi, buongiorno! Buongiorno!